capelli scuri alto occhi verdi sono quasi sicura di sì ma non capisco il perché di questo tuo grande interesse ma quanto alto avevo una felpa grigia per casa abbastanza alto beh scusami se non ho preso le misure precise in autobus sì sì mi pare che avesse una felpa grigia anche se non ho fatto molto caso ma come fai a saperlo lo conosci potrebbe essere samuele è così sì 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 chiamava samuele ma ma mi puoi spiegare chi è o mio dio olimpia è il nostro nuovo super figo compagno di scuola e ci stavo provando con te o mio dio primo tu sei matta secondo non ci stavo provando con me oh sì che ci stavo provando con te un ragazzo che non ci prova non si ferma nemmeno a guardarti domani a scuola devi per forza andare a scusarti per la tua poi solita imbranata freddezza no 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 non ci penso minimamente dovresti cercare di essere più carina e poi sei bella solare le persone non sono tutte così stronze come pensi tu ferma 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 oh mio dio oh mio dio oddio non ci posso non posso crederci dai smettila ti ha fatto la richiesta di amicizia su facebook oddio non ci posso credere credici e smettila di farti questi viaggi mentali probabilmente sta aggiungendo persone a caso della scuola guarda un po visto aggiunto anche te no speravo in una nuova love story credere Grazie a tutti.